Penso che ci sono stati gli anni dove è stato tanto bersagliato con il doping è stato tanto bersagliato e lì noi corridori abbiamo preso una grande infangata però io devo dire che smettendo lo scorso anno se faccio vedere i controlli che fa un corridore, un ciclista a casa io lo metto qua per iscritto, nessun sportivo fa tanti controlli come ne fa un corridore uno che vince i grandi giri è anche predisposto a fare tre controlli a sorpresa in una giornata a sorpresa cosa vuol dire? che tu stai facendo una roba e ti chiamano sono al telefono dove sei Sonny, sono qua in radio tra un'ora, un'ora e mezza devi essere a casa o veniamo noi da te prendono una stanza di hotel e ti fanno il volo così in questi anni qua chi si dopo è solo un enfogno